Fabrizio, sono Lauro da studio. Sì, sì, ciao Lauro. Stiamo attendendo l'arrivo di qualche giocatore della Fiorentina. Ho qui Socrates, scusi, Socrates, il giocatore della Fiorentina. Sto aspettando un buono che mi ha spesso proprio... Un attimo, due domande per cortesia, Socrates. Il dottor Socrates... Non riesco, mi evo, perché... Per favore, mi fanno tolgare la cortesia. Scusi, stiamo mettendo a per la Rai, per la Rai, novantesimo minuto, mi scusi. Una domanda a Socrates, questa partita poteva dire tanto per la Fiorentina, in chiave Scudetto, in chiave Coppa UEFA. Si allontana anche l'ultimo obiettivo, la Coppa UEFA. Che cosa è successo oggi qui all'Olimpico? 1-2 della Roma. 2-1 poi, la fine. Il gioco è stato un poco... Come dire... Non siamo concentrati, no? Perché eravamo troppo carichi, no, per questa partita. Il gioco è un po' confuso, non eravamo molto concentrati per questa partita. Sì, però oggi ci si giocava tanto. Insomma, questo è un difetto probabilmente caratteriale della sua Fiorentina. Della vostra Fiorentina. Purtroppo, Mego... No, Fabrizio, no? Fabrizio? Fai, là, sì. Scusi se ti do il tuo amico. No, 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 tranquillo, capo. Ti godo la Dio. Anch'io. Ti godo la Dio. A me. No, dicevo una cosa, che eravamo troppo carichi, no? Abbiamo dimostrato di non avere i coglioni, le cosiddette palle di Falcao. Non eravamo molto concentrati, non abbiamo i cosiddetti coglioni, come diceva Falcao. Praticamente il mister non capisce un cazzo. Ci ha messo male in campo, è colpa di picchioli. No, 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 tu non mettere in bocca a me parole che non ho messo. Ma io conosco il portoghese, sinceramente ho sentito... No, 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 il mister è confermatissimo perché noi seguiamo lui. Ma le polemiche, dunque, le polemiche durante la settimana, lei, decisti con onesti... Ci sono montate la testa, amico. Con onesti, anche... Amico, io devo andare. Se tu vuoi fare intervista con me, tranquilla, facciamo. Facciamo un bacio prima, diciamo... Tranquilla, allora... Va bene, ti do la linea allo studio e... Grazie, ciao, ciao, ciao.